Ieri presso la zona industriale sud di Sala Consilina in località Fonti si è svolta la prima fiera mercato Santa Maria. Questo primo esperimento voluto da una cordata di commercianti salesi in collaborazione con l'assessore a ramo Antonio Lopardo ha visto la presenza di ambulanti che hanno rispettato l'orario dalle 8 alle ore 23 per i commercianti un evento da ripetersi in futuro. La prima volta che abbiamo pensato di fare questa mostra a Trinità perché abbiamo fatto altre mostre a Sala Consilina e ci tenevamo pure di farla a Trinità, a fare questa fiera, pure per trascorrere un po' di tempo insieme con i commercianti di Sala Consilina e purtroppo ci stanno poco perché abbiamo capitato nel periodo di agosto. Quando la gente sta a mare? La gente sta a mare, però purtroppo la gente ci sono, qualcuno c'è che viene a spendere. Penso che noi la ripetiamo perché il Comune ci ha dato questa disponibilità insieme ai vicini, l'assessore e tutti quanti di fare questa fiera a Trinità. Comunque ci teniamo a farla un'altra volta, a ripeterla, insieme a che portiamo più barracche, e pure qualche cosa di nuovo, insieme all'amministrazione, di portare qualche novità. Un'ennesima attività commerciale qui. Allora, che cosa abbiamo esposto stamattina? Abbiamo esposto un po' il mercatino che abbiamo come sede Atena-Lucana, giusto pure per pubblicità, non tanto per vendita. Per farci conoscere un pochettino in più, perché ci sta tanta roba particolare, alla fine penso che piace a tutti, perché non è che è roba che uno la trova in tutti i negozi dove gira. Roba molto particolare, come sta andando? No, non male. Vabbè, la gente è poca perché so a mare, però alla fine comunque se la sponsorizzano bene, secondo me porterà tanti risultati, pure per il paese di Sala Consilina, perché il posto è bello, è spazioso, la gente arriva con la macchina, tranquillamente parcheggia, non ha tanti problemi, diciamo. Una commerciante di Sala Consilina che ci tiene a lanciare un messaggio, un ringraziamento, soprattutto anche all'amministrazione comunale. Allora, colgo questa occasione per ringraziare soprattutto il comune di Sala Consilina, sia da parte dei commercianti e gli ambulanti della zona, che ci ha dato questa opportunità e anche e soprattutto per rilanciare questa zona e ci auguriamo che col tempo questa cosa si ripeta.